Ciao amici di Pronti a Tutto, eccoci pronti per il video di Natale. Come vedete abbiamo una sorpresa, non c'è niente di meglio rispetto al video con un prepper che un video con due prepper. Allora ragazzi vi presento Piero San Giorgio che è come sapete uno dei prepper più famosi che ci sono in Europa. Prepper, autore come vedremo tra poco, youtuber, tiene conferenze su questo argomento e finalmente oggi è diventato anche protagonista di un video di prepper.it, roba non da poco. Pietro, allora ci siamo conosciuti su quel famoso trasmissione del National Geographic del 2012, anche se non siamo mai via la prima volta che ci vediamo di persona. Raccontaci, qual è stata la tua impressione rispetto a quel video, questa prima esperienza che abbiamo fatto insieme? Come dicevamo prima, penso che questo video sia stato fatto abbastanza bene senza le caricature usuali del prepper con il mitra nel bunker, anche se in realtà il mitra e le scorte le ho ovviamente, però non c'era quell'approccio, almeno nella parte mia e mi sembra anche nella parte tua e la parte di altri come Andrea. Non era una caricatura oscena e stupida, era fatto abbastanza bene, specie quello che mi è piaciuto che hanno parlato dell'approccio ecologico e dell'approccio economico. Cioè non hanno tagliato fuori quelle parti dove spiegavo secondo me il crollo che può succedere nelle nostre società anche per via dell'economia, anche per via dell'ecologia e per il manco di risorse. Che secondo me è fondamentale, non è solo la paranoia di ritrovarsi nell'attacco degli zombie che mi sembra degli scenari un po' di science fiction, di fantascienza. Ecco infatti la cosa che a me piace del tuo approccio è proprio l'analisi che quindi ti porta ad essere collegato alla realtà, quindi fuori dalla fantascienza, fuori dalla paranoia, un'analisi se vuoi anche sociopolitica, quindi insomma raccogliendo dalle rassegne stampa di tutto il mondo e cercando di capire qual è la realtà in cui ci muoviamo. Secondo te in questo periodo in cui ci troviamo adesso, quindi diciamo fine 2014, abbiamo una situazione di problematica con la Russia, gli Stati Uniti non se la stanno passando bene, l'Europa come sappiamo anche lei ha delle difficoltà, il Medio Oriente non ha mai smesso di essere una polveriera. Se tu dovessi fare delle previsioni sul 2015, cosa che adesso va di moda con gli oroscopi di fine anno, ma se tu dicessi al 2015 cosa possiamo aspettarci rispetto a questi scenari e rispetto al prepping? Cosa ci diresti? Allora, quello che bisogna dire è che prima di tutto l'approccio, quando si pensa di prevedere il futuro, a parte che nessuno è prefeta e nessuno prevede il futuro, e con precisione, bisogna dire che l'approccio è di provare di essere prima di tutto un cittadino, un padre di famiglia, un uomo o una donna responsabile, e essere responsabile vuol dire immaginare come può essere il futuro, l'approccio, lontano, per prepararsi, perché una persona responsabile si prepara, a quello che può succedere, perdita del lavoro, assicurarsi contro la casa che brucia, anche cose molto purtroppo banali, come in Francia per esempio ogni due minuti c'è un incendio in una casa da qualche parte, dunque sono cose molto palesi, molto semplici, purtroppo molta gente si aspetta che lo Stato ci viene a aiutare o l'assicurazione, invece in molti casi non è così. Abbiamo visto anche qui in Italia quelle alluvioni che sono state molto forti, che tra l'altro sono legate al problema ecologico e quello che ci sta succedendo. E dunque questo approccio di essere responsabile, di essere un cittadino responsabile, di essere un membro della società responsabile, è un approccio molto più terra-terra e molto più di buon senso che quell'approccio come si vede nei film americani dove c'è la meteorite che cade, la gente parte in panico e tutte queste cose. E dunque l'approccio, se uno è responsabile, l'approccio vuol dire di informarsi su come va il mondo, ovviamente regionalmente vicino a noi, se siete qui in Milano bisogna capire come va la regione, come va l'Italia, come va l'Europa, e poi capire la geopolitica di come va il mondo, politica geopolitica ma anche economia e dunque ambientale. E quando uno guarda il mondo oggi cosa vede? Vede che c'è una convergenza di problemi molto pesanti, tra cui la sovrappopolazione mondiale, di cui vedete oggi 5.000 persone al giorno che arrivano in Sud Italia dall'Africa e questo è un risultato della sovrappopolazione, del manco di risorse che è il secondo elemento, il secondo trend che converge. Poi ci sono le distruzioni ambientali anche qui in Italia, non solo il pattume che mandiamo via nei paesi del terzo mondo, ma anche le distruzioni che facciamo qui, ovviamente in Italia ci sono regioni purtroppo famose per essere state distrutte dall'inquinamento, dall'incuria, dalla cattiva gestione ambientale, dalla cattiva gestione dei boschi, del mare, delle acque, e questo ha impatto, ha impatto reale. E poi la quarta convergenza è la finanza, siamo in un mondo di debito, abbiamo finanziarizzato l'economia, non fabbrichiamo niente come prima, è molto diverso, è molto meno sulle risorse prime, siamo in una società che è molto nel terzario di servizi, è dunque molto fragile e si potrebbe aggiungere che questo debito ci sta trasformando in schiavi e tra l'altro si sente ogni giorno che siamo in panico e che non sappiamo più come pagare la casa, come pagare le macchine, tutte queste cazzette che ci hanno fatto comprare nel mondo del consumerismo, il frigo, la televisione plasma, le scarpe alla moda, le giacche alla moda, ci siamo ritrovati che oggi abbiamo sì, le armadi piene di roba alla moda, però alla fine come facciamo, abbiamo il conto in banca vuoto e soprattutto il conto in banca dello Stato, il conto in banca delle banche che sono vuote e adesso ci verranno a prendere i soldi nelle assicurazioni, nel conto corrente e prelievo forzoso come a Cipro, lo verrà anche in Italia, verrà in Francia, verrà dappertutto perché il sistema è agli sgoccioli, il sistema finanziario mondiale è fallito e comincia ad essere in panico e tra l'altro questo panico, incominciando dall'America, dagli Stati Uniti che sono la prima ancora potenza economica e militare, quando una società va in fallimento va a cercare le risorse altrove, che siano risorse naturali, faccio notare che gli Stati Uniti sono in guerra solo nei paesi dove c'è petrolio, non sono in Zimbabwe, non sono in Sri Lanka, sono nei posti dove c'è il petrolio e vanno a cercare il conflitto, le guerre, perché la guerra focalizza... Si chiama esportare democrazia. Esportare democrazia, esattamente, dove il conflitto focalizza le persone verso il nemico esterno e ha funzionato benissimo con i sovietici, con gli arabi, gli oristi... E non funziona più, tra l'altro, e vedo che tra l'altro uno dei... ci sono tanti punti caldi oggi nel mondo, ma chiaramente il conflitto tra gli Stati Uniti contro la Russia via tramite l'Iran, la Siria e oggi da un anno l'Ucraina, è molto preoccupante, perché qui si vede l'accelerazione di crisi internazionali che quando uno ci pensa non c'è nessuna ragione, però non è più una questione di ragione, è una questione di sopravvivenza per la potenza che gli Stati Uniti e questo è molto difficile, dunque nel 2015 è sempre difficile fare la bolla di cristallo, però chiaramente io vedo un'accelerazione dei problemi economici, inclusi in Italia, dove ovviamente il governo non è capace a risolvere il problema perché cerca crescita, ora crescita non sarà più possibile con l'infrastruttura economica e il manco di risorse naturali e per fortuna che il petrolio è basso in questo momento, per fortuna che i prezzi sono stati manipolati giù, che aiuta l'economia, però fondamentalmente siamo in un periodo dove l'economia non crescerà mai più, è la mia teoria. Mancano le risorse, mancano le capacità, manca anche la voglia e qui si accelera il processo di quello che chiamo nei miei libri il collasso economico, dove si accelera lo sfacelo dell'infrastruttura, lo sfacelo del manco di risorse, manca il sfacelo della capacità di usare queste risorse in modo produttivo e economicamente vuol dire sempre più gente disoccupata, sempre più gente che non può più lavorare, che non trova più il lavoro o che vuole assumere persone, che il rischio diventa troppo grande e questo si vede in America, l'hai visto, immagino la povertà incredibile che oggi c'è in America, è impensabile ancora dieci anni fa, ovviamente in Europa con paesi che sono, certi paesi come in Francia che sono al bordo della guerra civile, per ragioni che ancora dieci anni fa non esistevano, immigrazione di massa e ancora una volta senza criticare, senza avere odio per l'individuo che è l'immigrato, però quando un processo di reale invasione succede, non è il caso ancora in Italia, ma il caso in Francia, il caso in Inghilterra, le tensioni sociali che si creano, c'è una polveriera, aggiungi il Medio Oriente, aggiungi le guerre potenziali che possono anche essere nucleari, tutta la mia vita da bambino ho paura della guerra nucleare, tra l'Unione Sovietica e adesso sta ritornando, qui è spessa e qui se uno non si prepara non è più responsabile e spero che la gente capisce che non è una questione di aver paura, non è una questione di essere paranoico, è una questione di semplicemente dire ok, cosa posso fare come individuo, come famiglia, come magari villaggio, gruppo di persone in un palazzo in città, cosa posso fare per attutire, si dice attutire in italiano, per attutire l'impatto di qualunque crisi, ancora una volta, può essere una crisi globale, ma può anche essere una crisi locale, una persona che è pronta con lo zaino, con un po' di coperte, con un po' di cibo, se brucia il palazzo, almeno può tenere 24-72 ore, anche l'emergenza piccola. Visto che ne hai parlato prima e che fondamentalmente è la novità di questo periodo, allora a questo punto ti faccio parlare del tuo libro, Sopravvivere al collasso economico di Piero San Giorgio, che è anche uno dei motivi per cui ci siamo incontrati oggi, quindi la lascio tenere, allora riassumici brevemente, non tanto il contenuto, ma dai a loro una buona ragione per cui interessarsi a questo libro è correre in edicola a prenderlo. Una buona ragione per sopravvivere, per non morire, ma senz'altro direi che questo libro è il frutto del mio lavoro. Quando ho incominciato nel 2005 a prendere coscienza di come va il mondo, ovviamente ho incominciato a prepararmi, a fare quello che tutti fanno, cioè fare un po' di scorta dell'acqua, le coperte, le batterie per la casa, e dopo un po' mi sono detto ma alla fine le scorte finiscono, alla fine qui non si tratta di un'emergenza necessariamente piccola, ma anche un'emergenza che dura molto tempo. E dunque ho sviluppato questo concetto di base autonoma, durevole, quello che credo voi chiamate bug out location, e l'idea è di avere un posto che può essere il vostro appartamento, in casa ovviamente è meglio se è una casa in campagna, in montagna nel mio caso, eccetera, dove potete sviluppare questa autonomia in una base dove potete ovviamente sviluppare tecniche ma anche conoscenze e materiali per l'acqua, il cibo, l'igiene e la salute, l'energia, le competenze e la conoscenza, e anche in un certo punto la cultura, che bisogna mantenere la nostra cultura anche per il futuro e per i nostri figli, la difesa e il legame sociale perché ovviamente da soli è difficile fare tutto, dunque bisogna avere questo legame con la sua famiglia, gli amici magari, o la gente, i vicini, e puoi cominciare da qualcosa molto semplice e svilupparsi, nel mio caso, faccio il mio orto, l'allevamento, ho dei pannelli solari, eccetera, eccetera, e metto il legame con la gente nella mia vallata dove ho la mia fattoria, diventa ogni giorno sempre più forte, sempre più funzionale e questo ci permette di ovviamente chi può il più può il meno sviluppare magari questa resilienza, questa autonomia e dunque questa responsabilità di fronte al futuro molto più potente e molto più efficace e magari anche aiutare chi nella nostra famiglia o dei nostri amici alla fine si ritrova allo sbarando e che viene, magari di poterle aiutare perché se te non hai niente non puoi aiutare nessuno e dunque bisogna poter anche immaginare che alla fine avremo bisogno della gente, non è un approccio totalmente egoista e di rinchiusura, anzi al contrario è una questione di responsabilità, siamo completamente sociali e dunque questo libro l'ho scritto in Francia e siamo stati tutti sorpresi dal successo, siamo a 50.000 coppie vendute e dunque è un vero successo di libreria in Francia e ci ha sorpreso e probabilmente l'approccio è un approccio molto graduale e magari un linguaggio che non è paranoico o di far paura che piace e che è molto adattato secondo me alla mentalità europea, anche quando questo libro è uscito adesso in America, sta uscendo in Russia, nei paesi arabi, magari in Giappone e vedo che in America è un libro tra altri, invece in Francia è stato successo, in Russia secondo me è stato successo, perché speriamo in Italia, conto su di voi, perché è un libro che può aiutare la gente a capire nel mondo in cui stiamo andando e soprattutto come possiamo responsabilizzarci e prepararci a questo mondo difficile. Mi piace quanto spesso ritorna questa parola responsabilità, responsabilità, che vuol dire che non è una scelta diciamo così da fuori di testa, ma è una scelta da persone che vogliono fare qualcosa per rendere il futuro migliore. E magari, guarda, non è per quello che il futuro sarà fantastico e bello e sarà duro, ma secondo me andiamo in un mondo estremamente duro e con cambiamenti radicali e guarda, la maggior parte della gente non ce la farà, però non possiamo abbassare le braccia e non fare niente, dobbiamo prepararci, lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo anche ai nostri antenati, alla nostra cultura è importante prepararsi. Piero, grazie mille per l'intervista, grazie. Con piacere, ci rivedremo. Ah, tra l'altro, Prepper.it è citato anche alla fine del libro come punto di ritrovo per tutti quanti noi e allora alla prossima occasione, grazie ancora e in bocca al lupo per le venite. Ci rivedremo, stammi bene. Ciao a tutti.